Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI dove per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina si segnalano 2 km di coda in direzione Livorno e 2 km di coda in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. In A12 code per lavori tra Versilia e Massa in direzione Genova e tra Versilia e raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!